Signori, oggi andremo a vedere un nuovo video di J... si Jaden Di Hitman JDA o JDA o JD come vuole lui Praticamente è le migliori impostazioni per prendere il champion per PS5 Xbox Allora, Warden, incazzato l'Hershow, si fa la prima kill in HS C'è un clungio che non prende niente, va dritto, sembra tipo la formula... ah no, l'ha preso in realtà Glielo ha distrutto Allora, ce n'è un altro in boiler, barra laundry, laundry Ma scusate, il bridge è aperto e non guardano in blu Ma perché? Ora, ma c'è, scusa... urkut Malla Hai visto la kill? Chat, avete visto la kill? L'ha ucciso... col coltello Col coltello Ok Col coltello Sì Io... Cos'era quell'urlo? Cos'era quell'urlo? Ma usa... usa il G8 Pazzo sgravato Un altro livello Eh sì Non solo i settaggi devi mettere, devi mettere pure le stesse cose Sì sì Ok, vuole che droni ma mi sa che brava sta giocando a Candy Crash Non lo so Messa lì, bello Aspetta, mancano 5 stelle Allora, ce n'è uno in logistica Uno in logistica lì dove lui sta puntando Secondo voi si dropperà o no? Secondo me sì Secondo me proprio con le palle cubiche lui si dropperà e se ne farà due Poi vedremo Uno è crashato Ok Ho già azzeccato la prima quotazione in banca Forse ce n'è uno in doccia No, uno in... Guarda Quello di spalle Eh vabbè ma sei calmo Quello di spalle Che ho fatto? Vabbè ho schippato avanti Sbaglio C'è un rix là che... Ah no, infatti sei andato C'è un pazzo Sono due in cash Sì, con una granata Ah no, ma hanno gli ads Allora, ce n'è un altro in cash Però non lo può uccidere dalla finestra Vediamo che fa Allora, ancora un drone C'ha Yana Mi sa che uno... Uno è red Mi sa palesemente che uno sia red Sì raga, uno è sotto red mi sa Uh Mozzi Meno male che ha smirato Mozzi Oh, oh cacchio Jäger Oh my god Comunque raga lui ha la sense bassa eh Hai visto come ruotava? Ha la sense bassa, non c'è l'altra Che poi lo mi sto chiedendo Vale farò vedere le impostazioni O in clickbait Come al solito Vedremo, vedremo Sicuramente due persone ho visto Vedremo se sarà clickbait o no Mi sa che Mewton non c'ha più una testa Allora, uno è su Orange Trophy Orange Allora, sono 4v3 quindi in teoria Sono messi bene Negli ultimi due secondi Speriamo, speriamo Allora, quello sta plantando Eh, bravo Sono messi... Quello si è fatto scoppiare con la Impact? Ma? Era noccato con la Impact? Lo stava rialzando? Insomma Vabbè What the fuck Oh, io, 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 io Va bello quando ti entrano le granate Sì, proprio gli era messa perfettamente Ma secondo me Submarine Comunque è clear eh Cioè perché uno dobbia stare in sub appunto C'è il team che si fanno pure gli altri Sono delle bestie Hanno pure i droni Guarda stanno pure dronando Pazzi sgravati Noi in tre pusheremo tipo le scimmie No lui era andato a pushar Sì sì Senza dronare, senza niente Morti Ottima Era un 2v1 che doveva andare La possibilità a polfi 1v3, attenzione No come ggs No 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 Bella Scaramanzia Allora uno è sempre sul bridge Alla Per poco Ma secondo te saranno tutte e due sul bridge? Probabile Uno bridge a una finestra? Sarà abbastanza intelligente da fare Stare insieme Ai 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 Ha rischiato Bel pick Bello raga Bel pick Purati non piccare più Allora intelligente Osa pushare Se si fa questo Io piango La sfortuna di Osa che c'ha Tutte le cure Raga ha giocato molto bene Raga ha giocato pure con l'orix Ha giocato molto bene Stiamo aspettando Hitman JDA Ha giocato molto molto bene Bel clutch Molto bello Credo che mi troverò bene qui Ma mi fa piacere Ma mi fa piacere però Te l'ho chiesto Che senso Va bene Cioè Se lo dici tu E ci vediamo Così Mi pusha Ah no Run out Ma in che senso La cordicella che scena Cagato addosso Che stava quasi Sopravvivendo Ecco la cordicella Tutta a scendere Ma che ci fa quello dentro Che ci fa quello già dentro Con due lì Ma non è dentro Ma chi ha sparato Scusami Non so Non ha sparato All'avversario Vabbè abbiamo capito Che comunque Su mezza Quella parte là Sì Sarà Portapiano Parte destra Invece Su mezza Porco Due Che hit Ragazzi Lo stava facendo Mio Dio C'era quasi Quella Era molto ingrifata Per il clutch Ma dov'era Ha avuto un culo Col drone In teoria Ragazzi Ha due granate Ne ha visto uno Sa c'era uno Ma faccia la sab Cioè Io avrei pushato Sinceramente Ragazzi Cioè giusto Giusto Ce n'era uno O forse Se lo tocchi Amati Allora A differenza Degli altri Ragazzi Si sentono Le call Che fanno Penso No Non è però Sto scherzando Sono solo i compagni Su discord O altro Ma no Forse Non lo so Se si sente Non sapete Cioè Penso di sì Oddio Che cosa ho visto Sì Penso sia L'unico Che sentiamo Con lasciati Di gioco Che si sente È rischi Raga Perché gli altri Due non stanno Facendo niente Sono fermi Praticamente Lo fa Lo fa Non ho missato Alla Com'è 1v1 In che senso 1v1 Sì ma in giro Un'ora fa era Che vuol dire 1v1 Ma non è più 1v1 Ragazzi Oh Si è sentito Droppare dietro il divanetto Nè Non si doveva Droppare Ha fatto la cagata Di cadere Dal divanetto Adesso Che hai sentito Tuff Quando c'era il brace Poteva rimanere L'immirato Ma in che senso Ma cosa tocca Rimbalzato malissimo E ragazzi È la zombie più forte Del mondo Fatto di titanio Titanio E carta velata 4v4 Allora Sai che ce n'è uno In 90 È un po' rischioso Fare quello che sta facendo Sinceramente Allora Rispetto agli altri Ragazzi Lui Pazienta molto Ok Non pusha Pazzo sgravato C'è sì push Ma dopo un po' Dopo tanto Sono già più sicuro Sì Bella giocata Molto bella Attenzione Raga Non è un clickbater Le fa vedere Insomma Telefonina la mania Let's go Vabbè Questa è Sinceramente ragazzi È tutto on Quindi c'è Un bel bel skip Perché mi sono rotto Giacoglioni Ok Andiamo in audio Che Mi interessa solo Night mode Perché C'è altre cose Sti cacchi Prioritize Performance 87 Luminosità 65 Controlli Vedete voi 35 85 75 Poi 8 5 18 Su tutto Standard Poi Gli altri Non Ha messo Disable Quindi Con nuove cose Non ce le ha Non gli piacciono Non lo so E poi così GG Questo era Hitman JDA Molto molto bravo Ragazzi Veramente bravo Che pazienta molto Ma alla fine Puscia e distrugge Tutti Io Ciao 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 Grazie a tutti.